Noi stiamo facendo un grandissimo lavoro sulla resilienza, cioè la capacità di intervenire nel momento dell'emergenza. Io credo che Padova con il suo gruppo di volontariato sia assolutamente una buonissima pratica da proporre e da esportare in giro per l'Italia. Qui quando succede un problema c'è la centrale operativa, si inizia a rispondere ai telefoni, si inizia a essere operativi dando le risposte ai sindaci e ai cittadini. Io credo che non c'è miglior risultato rispetto a quello che è la necessità di agire in emergenza ma con efficacia. Come Presidente della provincia lei ha visto crescere più che nascere perché era nato prima questo centro. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo investito molto come amministrazione provinciale, soprattutto i sindaci ci hanno creduto. E' per questo secondo me che sono efficaci ed efficienti, oltre che bravissimi perché nel periodo in cui non ci sono le emergenze fanno dei corsi. Quindi non solo fanno volontariato durante l'emergenza ma acquisiscono nuove competenze durante i periodi in cui emergenza non c'è.